Buongiorno e benvenuti al nuovo appuntamento con PowerCoffee. Continuiamo a parlare di date e ore. Argomento di oggi, differenza tra date e ore e comparazione di questo tipo di dati. Nei precedenti PowerCoffee, il numero 29, abbiamo visto come definire campi e variabili di tipo date e ora, definire il formato, usare le costanti, reperire date e ora corrente e fare la conversione tra tipi di dati. Nel PowerCoffee numero 32 settimana scorsa abbiamo visto come convertire le durate e sommare e sottrarre durate a campi date e ora. Oggi parliamo come calcolare la differenza e come comparare date e ore. Vi ricordo l'articolo su cui potete trovare un po' un riassunto di tutti questi PowerCoffee anche in maniera più estesa e con diversi RPG, di esempio, pronti da scaricare. E veniamo all'argomento di oggi. Ricordiamo con questo schemino il riassunto di tutte le definizioni di date e ora con tutti i possibili formati. Lo potete anche scaricare insieme a tutti gli altri tipi dati a questo articolo. Marconetools ce n'è di tutti i tipi, quindi c'è questo poster che riassume in maniera comparata tra RPG, DDS, SQL e anche CLP la definizione di tutti i tipi dati. E veniamo all'argomento di oggi. Comparare due campi date e ora. Cosa abbastanza semplice, non c'è nulla di particolare. Voglio solo ricordarvi che il formato della data non è importante quando si fa la comparazione. Proprio perché il formato è solo un modo di vedere il dato che internamente è gestito dal sistema operativo sempre nello stesso modo. Quindi non c'è nessuna preoccupazione sul formato. Questi due campi data hanno formato diversi, contengono lo stesso valore, quindi un confronto if isodate uguale mdy date è sicuramente vero. Solo un'annotazione. Vedete quando ho valorizzato le variabili data, la costante l'ho scritta sempre in formato iso. Perché non dimentichiamoci, al di là del formato della variabile, quando uso le costanti nell'RPG devono essere sempre specificate nel formato di default che ho usato nel programma. In questo caso, non avendo specificato nessuna keyword nella specifica di controllo H, il formato di default è iso. Calcoliamo la differenza con l'RPG. Becchia maniera. Codice operativo fisso, sub-dur. Fattore 1 e fattore 2 contengono due campi data, ora o time stamp e il campo risultato deve essere un numero senza decimali, dimensione massima 15 digit. Il campo risultato deve essere seguito da due punti e il codice di durata, in modo da ottenere la differenza tra data e ora con l'unità di misura desiderata. Quindi, per esempio, se voglio una differenza in giorni aggiungerò asterisco D. Se voglio una differenza in mesi asterisco M. Quindi data, sub-dur, altra data e il campo risultato. RPG a formato libero. Dalla V5 R1 c'è la funzione percentuale DIF. Lavora in maniera assolutamente simile al codice operativo sub-dur, quindi il risultato è sempre un numero intero e un numero senza decimali. Data di partenza, due punti, altra data, due punti, l'unità di misura con cui voglio esprimere questa differenza. Quindi asterisco days, asterisco hour, eccetera eccetera. Attenzione che il risultato è arrotondato sempre in difetto e il resto viene ignorato. Quindi, per fare un esempio, se faccio una differenza tra ore e il risultato è 61 minuti, se voglio l'unità di misura in ora il risultato sarà un'ora. Invece una differenza di 59 minuti il risultato è 0 ore. Differenza con SQL. Si potrebbe essere tentati di utilizzare le funzioni year, month e day, ma attenzione che non fanno il lavoro richiesto per calcolare la differenza. Year, month e day estraggono la porzione di anno, mese e giorno da una data. Quindi non potete utilizzarle per fare una differenza tra due date perché il risultato sarebbe assolutamente errato. Cosa devo usare in SQL? La funzione days con la s che restituisce il numero di giorni che intercorrono tra la data passata come argomento e il primo gennaio dell'anno 1. Quindi i giorni di una data meno i giorni ottenuti dall'altra data e ottengo una differenza in giorni tra due date. Quindi questa istruzione SQL è equivalente a usare la funzione rpg%diff con asterisco days. Oppure se vado a fare un esempio per vedere che effettivamente non è la stessa cosa, month di una data meno month di un'altra data non è equivalente a fare %diff con l'unità di misura asterisco month. Attenzione a non commettere questo errore, ma a utilizzare la funzione days con la s. Altra possibilità, sempre in SQL, è la funzione Julian day che restituisce il numero di giorni a partire dal 1 gennaio 4713 a.C., ovvero l'inizio del calendario giuliano. Quindi in maniera assolutamente simile alla funzione days posso calcolare la differenza tra date anche con Julian days. Una particolare differenza che si può ottenere solo con SQL è quella che chiamo differenza composta. Se io semplicemente eseguo una sottrazione tra due campi data senza usare nessuna funzione, SQL restituisce un risultato che rappresenta la differenza in tre porzioni, porzione anno, porzione mese, porzione giorno. Quindi il risultato va analizzato a partire da destra, mi raccomando, e contiene due byte per il numero di giorni, due byte per il numero di mesi e due o più byte per il numero di anni. attenzione che se per esempio la differenza è 20 giorni avrò solo la porzione, cioè il risultato è solo due byte, quindi la porzione dei giorni. Se la differenza fosse un mese e 20 giorni avrò un numero composto dal massimo 4 byte. Per quello che il numero va sempre analizzato a partire da destra per scomporlo e ottenere anno, mese e giorni. Perché non è detto che ci siano sempre presenti tutte e tre le porzioni, dipende da qual è il valore della differenza. Quindi una differenza un po' particolare, diciamo c'è un po' di lavoro poi per andare a estrapolare da questo numero il significato che rappresenta. Un esempio è qua. Funzione Month Between di SQL. Restituisce un numero stimato di mesi tra due date. Il risultato è decimale, con 15 posizioni decimali, e viene assunto che il mese abbia 31 giorni. Però attenzione che se si sta calcolando una differenza di date che rappresentano entrambe l'ultimo giorno del mese, la funzione ne tiene conto per calcolare la differenza. Vediamo qualche esempio. Quindi Month Between tra due date, per esempio 2018, 1101, 2019, 1020, ottengo 11 mesi, virgola, e la porzione decimale è calcolata. Idem nell'esempio numero 2. Esempio numero 3, dove la porzione del giorno è identica tra tutte e due le date, quindi data consegna 3 e data ordine 3, il giorno è sempre il 29, quindi il risultato è esattamente un mese. Nell'esempio numero 4 ho il 29 febbraio e il 31 marzo, che rappresentano per i mesi corrispondenti l'ultimo giorno del mese, quindi anche in questo caso la differenza è un mese esatto, perché entrambe le date sono posizionate all'ultimo giorno del mese. Quindi questo è il lavoro che fa la Month Between. Altra funzione SQL che mi consente di calcolare una differenza è TimeStampDiff, quindi restituisce un numero stimato di intervalli in base all'argomento che specifico nel primo parametro. Quindi questo numero rappresenta quale tipo di differenza voglio ottenere. L'argomento del secondo parametro deve rappresentare già una differenza tra due TimeStamp convertita in una stringa di caratteri lunga 22. Quindi vediamo un esempio per capirci meglio. Ho le mie solite due date. Le converto in un TimeStamp per esempio con la funzione cast as TimeStamp. La prima data meno cast della seconda data anch'essa convertita in TimeStamp. Il tutto, questa differenza tra questi due TimeStamp, lo converto as char 22. Tutto questa stringa di 22 caratteri rappresenta il secondo argomento della funzione TimeStampDiff. Nel primo argomento gli chiedo con 64 che voglio una differenza in mesi oppure 16 se voglio una differenza in giorni. Quindi il primo parametro mi dà l'unità di misura con cui voglio ottenere la differenza. Quindi con questa funzione io posso agevolmente ottenere tutti i tipi di differenza mesi, giorni, ore e minuti tra TimeStamp sia che siano TimeStamps veri oppure anche se parto da una data basta fare la conversione in TimeStamp. Quindi abbiamo visto vari metodi rpg e sql, vedete che sql ci sono molte più possibilità, quindi a seconda dello scopo del proprio programma si può scegliere la funzione più adatta per calcolare la differenza tra date e ore. Vi auguro una buona settimana e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie. 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 Grazie.